le verline sono complessivamente sette orazioni la prima è la cosiddetta divinazio in cecilium pronunciata nell'udienza preliminare è un'orazione in cui cicerone chiedeva ai giudici di poter sostenere l'accusa controverle al posto di quinto cecilio scelto da ortensio come accusatore fittizio e disposto a perdere volontariamente la causa l'orazione seguente il cui titolo in latino è in verrem axio prima è l'unica pronunciata da cicerone nella prima sessione del processo qui l'oratore presenta le schiaccianti accuse controverle le cinque orazioni che compongono la terza sezione del corpus e che costituiscono l'accio secunda in verrem non furono mai pronunciate in tribunale ma furono rielaborate da cicerone per la pubblicazione qui l'oratore passa in rassegna i reati attribuiti avverle tra cui i furti di opere d'arte e le pene illegalmente inflitte ai cittadini romani grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti